Lo strumento fluidifica e tutte le sue potenzialità. Andiamo a vedere un filtro veramente molto utile e utilizzato da tutti, dai fotografi amatoriali e professionisti. Ciao a tutti e bentornati. Oggi andiamo a vedere questo fantastico filtro, appunto fluidifica, che ci darà la possibilità di cambiare letteralmente l'aspetto delle nostre immagini. Vi ricordo sin da subito che in qualsiasi caso e per qualsiasi dubbio potete sempre richiedermi una lezione privata su www.fabriziopavia.com e se volete supportare il mio lavoro basta che cliccate qui sotto sul pulsante grazie facendo una piccola donazione oppure abbonandovi al canale facendo una donazione mensile. In particolar modo lo useremo per quanto riguarda un ritratto. Questo perché, a parte che è la mia specializzazione, ma poi secondo me il ritratto è una delle cose più difficili da gestire. Per fare una cosa del genere a mio avviso ci vuole una discreta esperienza. Non basta solo sapere quali sono tutte le funzionalità di fluidifica. Però fluidifica ci può dare la possibilità, prima di tutto a livello professionale, di creare una vera e propria immagine perfetta, cosa che tante volte è richiesta, soprattutto per quanto riguarda scopi pubblicitari e simili. E poi ripeto, a livello visivo estetico per ritornare a una sensazione più vicina a quella reale. Quindi decidete voi come andare a intaccare la foto in base alla vostra visione personale ma anche artistica. E fatemi sapere anche cosa ne pensate qua nei commenti. Quindi oggi andiamo prima di tutto a vedere, anzi vi do un consiglio su quello che potrebbe essere un ottimo metodo per usare fluidifica al massimo delle sue potenzialità senza esagerare. Quello che a me ha aiutato moltissimo, quindi ci sto parlando di un'esperienza prettamente personale, è stato provare a imparare a disegnare. Ora non vi voglio annoiare con la storia della mia vita, sappiate solamente che io sono un pessimo disegnatore e per tutta la vita ho provato a imparare a disegnare. Ovviamente sono passato per vari schemi che sono questi. Vedete come è schematizzato il corpo umano? Qui si parla di una donna ma qui si parla di un uomo. Ecco un altro esempio molto più frontale dove a sinistra abbiamo il corpo maschile e a destra abbiamo quello femminile. Perché è importante questo? Perché mi ha fatto capire quali sono le proporzioni umane e quindi dove andare ad agire senza creare dei veri e propri mostri o comunque una situazione surreale. Non voglio assolutamente dire che per usare fluidifica, dobbiate affrontare questo percorso, lo stesso che ho affrontato io. Però devo dire che questa mia passione al di fuori della fotografia mi è stata molto utile. Non ho imparato bene a disegnare, ancora faccio molta fatica, però almeno il mio sforzo è stato ripagato per quanto riguarda la gestione del corpo umano sulle fotografie. Tornando all'immagine che andremo ad analizzare, come vedete qui abbiamo un semplicissimo ritratto di una bella ragazza davanti a uno sfondo grigio in uno studio fotografico. Ci tengo a precisare che questa ragazza non esiste, l'ho creata appositamente per questo esempio con l'intelligenza artificiale, quindi intelligenza artificiale che è stata molto utile in questo frangente. Volevo infatti che avesse una posizione classica, che fosse una foto molto standardizzata, ma anche che non fosse lo stereotipo di ragazza adatta per uno shooting fashion. Volevo che avesse un aspetto un po' più classico. E quello che ha fatto l'intelligenza artificiale è stato ricreare una foto nel miglior modo possibile, ma con qualche errore qua e là. Se vediamo ad esempio la maglietta a cui presenta uno spigolo di troppo, anche da questa parte, ma già potrebbe essere realistico, nel senso che potrebbe essere una piegatura della maglietta. Qui abbiamo i capelli un po' fluenti, quasi come se ci fosse vento. E poi un classico pantalone nero. Ecco, forse qua la punta della scarpa è troppo accentuata. E quello che faremo è andare a vedere tutti gli strumenti che Photoshop ci mette a disposizione con il filtro fluidifica. Clicchiamo su filtro fluidifica e questa è la schermata che si presenta. Sulla sinistra abbiamo tutti gli strumenti, mentre sulla destra dei pannelli di controllo. Ovviamente al centro la nostra immagine e andiamo subito a studiare che cosa abbiamo a disposizione. Qui c'è lo strumento altera avanti. Che cosa fa questo strumento? Tramite un pennello, vi ricordo i comandi per ingrandire e diminuire il pennello da tastiera, quindi CTRL, OPTION e tasto sinistro se siete su Mac, CTRL, ALT e tasto destro se siete su Windows e potete allargare e diminuire il pennello. Vi ricordo anche il tasto COMMAND Z per tornare indietro. Iniziamo a vedere che cosa fa. Ovviamente qui nel momento in cui sposto qualcosa l'immagine si deforma completamente. Ora per controllare meglio questi movimenti abbiamo a disposizione le proprietà. Infatti qui c'è la dimensione del pennello che abbiamo visto prima come poter variare tramite tasti, la sua densità e la pressione. La percentuale invece si riferisce ad altri strumenti. Vediamo la densità. Mettiamola al massimo, spostiamo e vedete quanto si sposta e in che modo soprattutto. COMMAND Z, lo mettiamo a zero e spostiamo di nuovo. Vedete che lo spostamento è molto meno evidente. Quindi la densità va a toccare la forza del nostro intervento sull'immagine. Torniamo indietro e vediamo la pressione. La densità, tanto per cominciare, vi consiglio di lasciarla intorno al valore 50. Mettiamo al minimo la pressione e guardate non succede quasi niente. Torno indietro, la metto al massimo e si sposta tutto in maniera veramente esagerata. Fissa bordi potrebbe essere molto interessante nel caso in cui abbiate bisogno di andare vicino ai bordi o al perimetro della vostra foto. Ad esempio, rimpiccioliamo un po' il pennello. Lasciamo la pressione intorno al 50. Vi consiglio di lasciare pressione 50 e densità 50 perché sono dei valori intermedi e vi daranno la possibilità di studiare meglio lo strumento. Andiamo ad esempio sulla punta del piede che in questo caso l'intelligenza artificiale ha reso troppo accentuata e la sposto un po' più su. Vedete che il bordo della foto è rimasto immutato o meglio apparentemente immutato. Torniamo indietro, levo fissa bordi e guardate cosa succede. Sposto il piede verso l'alto e ovviamente si crea un buco. Non è quello che vogliamo. Fissa bordi ci dà proprio la possibilità di stirare meglio l'immagine e quindi quello che c'è dietro o meglio vicino al soggetto che stiamo andando a toccare e ci mantiene i bordi fissati sull'immagine. Quindi lo sposto un po' e sembra che non sia successo niente. In realtà, vi ripeto, ha stirato un pochettino i pixel, cosa che si vede in gran misura se io comincio a spingere tantissimo e guardate quanto sono striati i pixel. Torniamo indietro e andiamoci a studiare il secondo strumento. Questo si chiama strumento ricostruisci e come dice la parola stessa tende a ricostruire la zona in cui stiamo spennellando. C'è una piccola differenza tra questo strumento e la storia di Photoshop. Mentre la storia torna indietro con tutte le azioni, quindi annulla le ultime fatte per tornare a una precedente, lo strumento ricostruisci ci dà la possibilità di riprendere una zona senza andare a toccare le ultime modificate. Ve lo faccio vedere così si capisce meglio. Diciamo che questa è la prima azione e questa è la seconda. Con la storia, se torno indietro, ad esempio con Command Z, lo faccio una volta e mi rimetto a posto questa parte. Lo faccio la seconda volta e mi rimetto a posto questa. Ma se io avessi voluto solamente questa parte lasciando questa zona invariata, vediamo un po' cosa fa. questa è la prima modifica, questa la seconda, questa la terza e così via. Voglio risistemare solo la prima parte, aumento la grandezza del pennello e tengo spinto spennellando su quest'area qua. Vedete che velocemente riporta tutto come era prima, ma qui non è cambiato niente, cosa che invece potrei fare se spennello pure qua. E siamo tornati alla situazione di partenza. Infatti se spingo Command Z mi ridà quello che avevo prima, perché comunque lo strumento ricostruisci viene visto come un'azione, quindi molto interessante sotto questo punto di vista. Anche qui la densità e la pressione possono essere abbassati, ad esempio se porto questo a un valore molto basso e la densità pure a un valore molto basso, strumento ricostruisci, vedete che va pianissimo. Lo riporto a un valore alto, perché così vi faccio vedere percentuale. Abbasso la percentuale e vedete che in realtà è andato un po' più lento rispetto a prima. Quindi ci dà la possibilità di controllare meglio la ricostruzione dell'immagine. Se poi non siete convinti di quello che state facendo, potete sempre ritornare totalmente indietro con Ripristina tutto. E vedete che mi ero dimenticato quest'area qua del braccio. Il terzo strumento è lo strumento a rotonda. Ora questo, se usato appena aperta l'immagine, quindi senza alcun tipo di ritocco o di modifica, non influisce assolutamente sull'immagine. Lo clicchiamo, allargo il pennello, clicco sull'immagine, trascino, ma non succede assolutamente niente. Questo perché? Perché è uno strumento che tende a rifinire un precedente ritocco, un precedente spostamento, che adesso andiamo a fare in maniera molto sbagliata. Per esempio, se io penso di ingrandire questo braccio e comincio a fare cose di questo genere, sto creando una malformazione molto evidente. Il braccio è vero, si è allargato, però non è continuo. Se vado sullo strumento a rotonda, mi aiuta a creare una linea un po' più continua. Guardate cosa fa. Non sto ricostruendo il braccio, ma l'ha reso molto più omogeneo. Infatti, se faccio ripristino a tutto, guardate, il braccio torna esattamente come era prima. L'ho solamente allargato. Vi rifaccio vedere. Questo è il braccio allargato e sistemato con lo strumento a rotonda. Questo è il braccio originale. Quindi molto utile anche sotto questo punto di vista. Gli altri strumenti che abbiamo a disposizione sono molto particolari perché abbiamo lo strumento spirale che fa esattamente questa cosa. Ora, così potrebbe sembrare quasi totalmente inutile, ma se avete guardato bene all'inizio può essermi utile per fare dei piccoli spostamenti. Ora, non proprio in faccia, magari non ve lo consiglio, però già qui sul braccio è uno spostamento molto più plausibile. Poi c'è lo strumento piega. Andiamo a vedere cosa fa. E vedete che fa una specie di risucchio. Potrebbe essere interessante sempre per dimagrire un braccio, una gamba, una caviglia. Attenzione però perché spesso e volentieri si crea un risultato come questo che vedete un po' surreale, un po' poco veritiero. Quindi mi raccomando andate a giocare bene con pressione e densità soprattutto perché così facendo sicuramente avrete un risultato molto più plausibile. Andiamo adesso a vedere l'altro strumento che è lo strumento gonfiamento. Ora, in base a quello che abbiamo visto prima, questo strumento fa esattamente il contrario. Infatti, vedete, sto ripristinando il braccio, addirittura ingrandendolo particolarmente. Sembra che la ragazza abbia un bicipite molto sviluppato. E anche questo ci può aiutare tantissimo per sistemare una figura che magari è venuta con una prospettiva poco favorevole che non mette in risalto le forme del soggetto. Questo qui invece potrebbe essere interessante perché che cosa fa? Tanto per cominciare vi faccio vedere il nome, si chiama strumento spingi a sinistra. Ora, se lo faccio in questo modo potrebbe sembrare che non sia assolutamente utile. Se vado giù spinge verso destra, se vado in su spinge a sinistra. Però, se ad esempio lo rimpicciolisco e lo uso in questo punto, guardate cosa succede. Sto spingendo in dentro la maglietta e sono riuscito a renderla un po' più verosimile. Guardiamo com'era prima e effettivamente abbiamo risolto già un problema. Avremmo potuto farlo anche con lo strumento sposta, però in questo modo sarebbe un po' più complesso. Dobbiamo stare un po' più attenti. Se ad esempio sposto in questo modo, vedete che vado a prendere pure il bicipite. Non sono stato in grado di andare ad evitare una malformazione di questo genere. E questo ci introduce proprio allo strumento che viene subito dopo, ovvero la maschera. Strumento maschera aria fissa. Che cosa fa? Ci dà la possibilità di creare un'area che non verrà mai toccata nel momento in cui passiamo, ripeto, con lo strumento altera o sposta. Andiamo a spennellare sull'area che non vogliamo che venga modificata. Ci teniamo un po' abbondanti. Vi consiglio di farlo perché in questo modo non incorrerete in errori. E a questo punto, riprendendo lo strumento iniziale, posso anche ingrandirlo. Vedete che va ampiamente sul muscolo, ma se sposto, ecco, mi va a prendere giusto l'area che ho saltato, però il bicipite rimane lì. Vediamo qua sotto. Vedete, qui non si è assolutamente mosso. Vi faccio notare che qua non ho spennellato e infatti l'ha stirato particolarmente si vedono i pixel molto marformati. Così come aggiungo una maschera posso anche rimuoverla. Aumento il pennello e vado a togliere parti della maschera. Ma la maschera non finisce qui perché può essere sistemata grazie a delle opzioni che troviamo da questa parte. Opzione maschera, infatti, ci dà la possibilità di levare tutte le maschere oppure mascherare tutta l'immagine o, nel caso in cui abbiamo fatto una maschera, andiamo a rifarla, invertire tutto quanto e lasciare solo quest'area libera. Poi abbiamo anche la possibilità di interagire con le maschere e le selezioni precedentemente fatte in Photoshop, ma non è questo il caso perché noi abbiamo l'immagine già pronta, quindi non abbiamo maschere, non abbiamo selezioni, ma le immagini che si trovano qui fanno capire perfettamente come si muovono questi strumenti. Andiamo a togliere di nuovo tutta la maschera, ripristiniamo tutto perché stiamo creando veramente delle deformazioni poco gradevoli e cominciamo ad addentrarci in quella che è la sistemazione del volto. Qui abbiamo uno strumento molto particolare che si chiama appunto strumento volto. Vedete che ha creato delle piccole parentesi intorno al volto, ma se andiamo sugli occhi ecco che ci sono dei punti di ancoraggio che parlano abbastanza chiaro. zoomiamo un pochettino. Se ad esempio prendo questo punto di ancoraggio, vedete come allarga l'occhio. La stessa cosa ovviamente la vado a fare qui se voglio una immagine simmetrica. Possiamo anche alzarlo, vedete si ingrandisce sempre di più e molte altre funzioni che sono più facili a farsi che a dirsi. Possiamo mettere a posto anche il naso, guardate come lo rimpicciolisce, la bocca, qui andiamo a toccare le labbra e anche questa volta stiamo creando un'immagine veramente poco realistica. Vi faccio vedere anche il volto per concludere la carrellata di possibilità. Vedete come l'allarga e lo stringe. È molto interessante vedere anche come riesce a mantenere il contorno della zona modificata e lo sistema in base a quello che stiamo facendo. Tutto questo però può essere fatto anche in maniera molto più precisa con fluidifica in base al volto. Avete visto che appena ho cliccato qui si è aperto questo pannello. Ora andiamo a ripristinare totalmente l'immagine, così abbiamo quella originale e vediamo cosa ci mette a disposizione il pannello. Qui abbiamo seleziona volto, volto 1. Ovviamente c'è una persona sola ma la grande caratteristica di fluidifica è che riesce a vedere singolarmente i volti delle persone presenti nella foto. Quindi una modifica personalizzata per ogni viso che riesce a trovare. Andiamo a prendere gli occhi. Stiamo nella sezione appunto degli occhi e vediamo che qua ci sono delle catene tra un level e l'altro. Ovviamente gli occhi sono due e la catena ci dà la possibilità di regolarli simultaneamente. Quindi se faccio a destra e a sinistra vedete che la dimensione dell'occhio aumenta e diminuisce. Se lo lascio o meglio se rilascio la catena muove solo l'occhio sinistro, così come questo muove solo l'occhio destro. L'altezza degli occhi, vedete che li fa più o meno alti, la loro larghezza e la loro inclinazione. Questo è molto interessante perché anche pochi millimetri possono cambiare totalmente l'espressione di una persona. Ve lo faccio vedere. Guardate come sembra un po' più triste o comunque un po' più tranquilla l'espressione e guardate adesso come sembra un po' più convinta, anche se forse in questo caso abbiamo esagerato un po'. Però il cambiamento che fa è veramente sostanzioso. E poi c'è anche la distanza degli occhi. Ovviamente ogni persona ha le sue caratteristiche e la distanza degli occhi è una di quelle che saltano di più all'occhio, scusate il gioco di parole. Ripristiniamo tutto, chiudiamo occhi e andiamo sul naso. Qui abbiamo altezza naso, letteralmente più su o più giù rispetto al labbro superiore e larghezza naso. Questo può essere molto utile anche perché a volte se si sbaglia l'ottica il naso è una di quelle cose che viene maggiormente schiacciata. Quindi se vogliamo diminuire un po' la larghezza del naso questo strumento ce lo fa fare in un attimo. Andiamo sulla bocca. Anche qui abbiamo, così come inclinazione e occhi, uno strumento che ci darà la possibilità di cambiare letteralmente l'espressione del viso. Ora qui c'è un sorriso dove si vedono anche i denti, quindi se lo rendo più triste sembra un po' meno veritiero. Per quanto ancora va bene. Di certo però non è un'espressione totalmente triste. Al contrario invece se lo aumento sembra che stia sorridendo tantissimo. Quindi già si partiva da un sorriso e adesso si fa un sorriso molto più sentito. Labbro superiore si può rimpicciolire o ingrandire, così come il labbro inferiore. e la larghezza della bocca. Infine altezza a bocca è un po' differente perché ci dà la possibilità di aprirla o chiuderla leggermente. Ovviamente se aumentate troppo comincia a essere un po' troppo strano perché in questo caso ha creato dei denti veramente troppo alti. Se la diminuite invece sembra un sorriso poco convinto. Andiamo anche qua a ripristinare. Andiamo poi sulla forma del volto. E anche questo può cambiare letteralmente i connotati di una persona perché già con la fronte, guardate, possiamo cambiare l'altezza dell'attaccatura dei capelli. altezzamento, guardate quanto cambia. Mascella, mascella è molto importante perché può rendere più duro o più dolce il lineamento del viso. E poi la larghezza del volto in generale. Guardate quanto è cambiato rispetto a prima. Andiamo anche a vedere un prima e dopo. Basta disinnescare l'anteprima e ci sembra quasi di stare a guardare una persona diversa. O meglio, la sorella della precedente modella. Chiudiamo bocca, chiudiamo forma volto e andiamo su carica opzioni trama. Ora, questo qui funziona nel momento in cui voi avete già una trama. Una trama che cos'è? È una griglia che si crea sulla foto che state lavorando e che si può creare da qua. Ad esempio, mostra trama. Ecco, questo è quello che state facendo. Se io ad esempio prendo lo strumento altera e sposto. Vedete che cambia anche la griglia della trama. Questa variazione, con tutte le sue opzioni, che si può vedere un po' più grande, un po' più piccolo, con altri colori, eccetera, può essere salvata e ripresa quindi con carica trama, carica ultima trama, se ne avete già usata una, oppure salva trama appunto per ricaricarla con un'altra immagine. Ma adesso chiudiamo questa sezione che comunque è abbastanza chiara e andiamo a vedere le opzioni riguardante la maschera. Ora, se io faccio una maschera qualsiasi, potrei avere la necessità di cambiarle colore. Questo perché se mi trovo ad esempio col rosso sul rosso, la vedo veramente poco. Invece qui abbiamo tanti colori primari e possiamo cambiare fino a quando non abbiamo un contrasto perfetto. Andiamo a levare la maschera e qui possiamo mettere anche mostra sfondo. Come vedete sto guardando l'immagine attuale in trasparenza su quella originale e posso variarne l'opacità semplicemente cliccando qui. Anche questo è un modo per fare il prima e dopo, ma anche un modo per capire, lasciandola a metà, al 50, quanto sto andando ad influire su quella che era la foto iniziale. Ovviamente qua ho fatto una deformazione irreale, però guardate quanto cambia. Se ripristino tutto e mi sposto leggermente, vedete qua capisco quanto sono andato a toccare. Si possono anche intravedere tutti i livelli, non è questo il caso, ne abbiamo solo uno, ma potrebbe essere molto comodo per avere dei punti di riferimento. Leviamo mostra sfondo e proviamo finalmente a fare una modifica generale di questa foto. Ripristiniamo tutto e vediamo cosa possiamo ottenere grazie ai nostri strumenti. Prima di tutto zoom un pochettino, metto una maschera ad esempio sul braccio, in questo modo, e magari con lo strumento spingi a sinistra cerco di sistemare questa maglietta. già molto meglio. Vediamo se riusciamo anche qui. Andate su e giù per capire come dovete agire. Ovviamente qua non insisto troppo, se no il braccio potrebbe diventare troppo grande. Oppure potrei insistere effettivamente un po' di più, perché a questo punto potrei scegliere di spostare totalmente il braccio un po' più a sinistra e renderlo un po' più veritiero. Vedete, quando sto usando un pennello, soprattutto un pennello grande, il centro del pennello lo metto al di fuori dell'area che devo spingere. Questo è un piccolo consiglio che vi do io personalmente per poter fare una modifica un po' più realistica e veloce. Andiamo a vedere la corporatura in generale. Diciamo che la vogliamo leggermente dimagrire. Vado a togliere la maschera, prendo lo strumento altera, lo ingrandisco un po' e mi sposto un po' la gamba. Aumento e diminuisco ogni volta che ho bisogno di fare qualcosa. Tutto dipende dall'area che state toccando. Qui solo l'esperienza vi potrà dire qual è la grandezza migliore del pennello. Spingo un po' tutto il pantalone, anche da questa parte. E vediamo adesso cosa succede se mi metto a sistemare quest'area qui. Riprendo la maschera, la rifaccio. Prima l'ho tolta non pensando che avrei voluto cambiare questa zona. Mi tengo molto abbondante e con lo strumento altera vado a incrementare la curva. In questo modo. vedete abbiamo già usato gran parte degli strumenti. Forse potrei fare qualcosa di più qui. Ecco. Creare questa curva qua che è molto più veritiera. E andiamo adesso a vedere cosa possiamo fare sul volto. Ad esempio la fronte possiamo abbassarla ulteriormente. Il la larghezza del volto diminuirla un po'. Vediamo la mascella invece. Ecco. Forse così è un pochettino meglio. Mentre il naso possiamo renderlo un po' meno largo. e gli occhi ingrandirli leggermente. Senza esagerare ovviamente. Andiamo a vedere come era prima. Anzi prima facciamo command 0 per avere un'immagine completa. Ci riportiamo sulla maschera annullandola. Disinnesco anteprima ed ecco qua. Guardate come sono riuscito a cambiare l'immagine senza stravolgerla. Concludendo fluidifica ci dà una rosa di strumenti e infinite possibilità creative che sta a noi decidere come attuare. Vi ricordo che per vedere i backstage dei miei shooting con le modelle e relative interviste c'è sempre a disposizione il mio podcast foto e modelle. Invece se il video vi è stato utile mi raccomando mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con il prossimo approfondimento su Photoshop. Ciao.